benvenuto prof ingegner mario organte che però per me sei professore tu anche professore una volta io ti ho incrociato come mio docente e per cui tu sei professore fin da quei tempi eri punto di riferimento per noi studenti all'università di padova per il tema ponti e con zuccolo poi con insomma con un professor modena che ha fatto tutta la sua carriera anche specializzandosi sui ponti e anche come progettista e poi tu invece hai mantenuto la tua attività professionale sul tema dei ponti. Assolutamente sì io non ero tu ti ricordi non ero un professore di nomina insomma ero stato ero sono un docente a chiamata per la benevolenza di zuccolo e così via mi divertivo molto a dir la verità perché era una confrontarsi con dei ragazzi giovani spesso molto molto volonterosi era un motivo di stimolo anche per il professore mi ricordo la cosa più più simpatica era quando facevo le esercitazioni temino era semplice ma c'era chi si limitava a sviluppare il temino semplice ma chi anche poi gli chiedevi ma potrebbe approfondire questo la volta dopo al controllo ti portava un tema sviluppato ed era veramente un orgoglio una gioia poter aiutare Stitosi era veramente un gusto veramente bravo. Siccome l'audience è di tutta Italia Stitosi vuol dire questi ragazzi però è Tosi internazionale devo dire che Università di Padova io l'ho vissuta mi sono laureato nel 92 e l'ho vissuta quando ormai c'era la rivoluzione del personal computer e di software legati al personal computer tu che sei qualche anno davanti a me hai vissuto proprio dal mainframe sei passato a tutti i livelli mi definisco ancora adesso abbastanza analogico nel senso che poi ti ho già detto no loro hanno organizzato alcuni mesi fa questa bellissima iniziativa dell'ingegneria di una volta chiamando alcuni maestri di una volta è stato un gusto risentirli tutti i miei coetanei per carità insomma ma tutti ancora appassionati di questo mestiere e lì di digitale c'era abbastanza poco c'era l'influenza c'erano alcuni calcoli a mano certamente molto molto bello sì devo dire noi come distributori e supportatori di software di calcolo strutturale delle volte abbiamo un po' di imbarazzo no perché effettivamente ci rendiamo conto che questi software sono in grado di affrontare qualsiasi tipo di problema qualsiasi tipo di non linearità qualsiasi simulazione fisica ma il problema è il controllo no cioè sapere delle volte sapere qual è il risultato perché uno dice ma come devo sapere qual è il risultato me lo dirà il computer no devi saperlo tu no no ma c'è il famoso capitolo 10.1.2 delle normative no il controllo di accettabilità dei risultati se ne vedono di tutti i colori e la responsabilità dell'ingegnere per fortuna perché per fortuna guarda che il capitolo 10.2 delle norme tecniche è il baluardo che ci preserva secondo me da un tema anche con l'intelligenza artificiale perché comunque la firma la devi mettere tu sì sì ti preserva dalla attendibilità dalla sostenibilità dei tuoi risultati e poi da rischi importanti insomma il nostro mestiere non è vendere mele ma costruire opere che devono durare che devono essere sicure che devono essere funzionali soprattutto la tua società di ingegneria si occupa fondamentalmente di progettazione di ponti sì solo le strutture siamo degli inguaribili estinati come dire dedicati alle strutture prevalentemente i punti però tutte le strutture fabbricate qua non tanto fabbricate le strutture diciamo per le infrastrutture grosse strutture idrauliche abbiamo fatto eccetera sia in acciaio che in calcestruzzo ecco questo è quello che ci come dire nel campo degli specialisti estremi ci distingue un momentino e facciamo molti punti di acciaio perché adesso vanno chiaramente molto di moda però facciamo anche le pile anche le fondazioni facciamo la geotecnica per quello che possiamo dopo per i problemi speciali evidentemente ci sono gli specialisti grossi geotecnici la denominazione il tuo studio si chiama studio ingegneria strutturale SIST il mio cognome è quello della mia socia che tu conosci la Roberta Bortot Roberta Bortot che era quasi mia compagna di corso e quindi me la ricordo bene molto brava molto in gamba anche lei è molto seria avevo all'epoca la continuo a stimare ma all'epoca avevo proprio come una stima veramente assoluta perché mi sembrava veramente outstanding come dicono gli inglesi e un'ultima domanda ti faccio tutta questo diciamo hype per l'intelligenza artificiale tu come lo vedi? ha delle potenzialità importanti va gestita con grande attenzione perché poi in realtà è un'intelligenza che è sempre guidata quindi la fase di guida è fondamentale però in alcune situazioni noi adesso ci occupiamo anche abbastanza te lo raccontavo prima di punti esistenti sui punti esistenti il tema fondamentale è quello intanto di prevedere la vita utile residua ma dove si abbiano dei dubbi importanti il monitoraggio è importante il monitoraggio è anche interpretazione dei risultati che arrivano dai sistemi dai sensori che tu metti che arrivano con grande velocità e chiaramente istruire una macchina nella lettura e nella non so se interpretazione ma comunque nella restituzione intelligente a te che devi giudicare è fondamentale e fuori dubbio tu sai per esempio le applicazioni dei droni che passano con una certa frequenza a fare le foto sulle superfici ammalorate eccetera e istruiti che possano riconoscere la differenza l'evoluzione del danno questa è una cosa che a mano non la fai neanche a occhio ma il software l'intelligenza ti aiuta tantissimo ci sono sperimentazioni importanti che so che ci sono sicuramente delle ricerche abbastanza evolute stai tenendo d'occhio quindi questo è uno dei settori importanti è fascinosissimo poi quella questione dei punti esistenti allora grazie ingegnere grazie di essere stato qui ti rimando nella zona più festaiola e io invece rimango qua sempre molto contento di frequentare gli amici spero Paolo e Luigi dopo ci saranno altri eventi ci sarà il SAIE a ottobre 9 di ottobre spero che tu avrai tempo di passare se ce la farai e anche per un'altra intervista ci sono degli eventi anche sui ponti i ponti d'arco in muratura ci sono tante cose secondo me ancora il mondo dei ponti sta dando ancora cose interessanti infatti vi sorveglio spesso perché le vostre le vostre iniziative sono quasi quasi di confine delle volte importanti grazie prof caro Paolo lascia mi chiamarti prof ancora e un saluto a tutti grazie 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 Grazie.